buona sera tifosi viola tifose viola tifose di altre squadre finalmente ci rivediamo per un video io non ho fatto ieri il video post partita perché la partita non l'ho vista ero ancora a lavoro poi sono tornato a casa ero stanco ho deciso di fare il video del giorno dopo in questo momento sono in pausa lavoro quindi sarà un video breve ma c'è poco da parlare della partita di ieri perché la partita ieri è una partita inesistente con zero tiri in porta con con zero emozione una partita che invece di partita si può chiamare appunto biscotto cookie in inglese e bene siamo salvi dopo i risultati di ieri sera dopo il risultato del benevento e la sua sconfitta contro contro l'atalanta però io non sono contento nel senso contento di essere salvo però devo essere un po moralista devo dovrò fare dovrò dire delle cose probabilmente a molti tifosi viola non piaceranno a me questo discorso dei biscotti questi accordi tra giocatori veri o no che siano a me e non piacciono sinceramente io ritengo che la fiorentina sia una squadra che non debba ricorrere a questo tipo di pratiche di sotterfugi per salvarsi è belle la seconda volta in tre anni che succede perché ricordo due anni fa la salvezza all'ultima giornata per un biscotto con il genoa e ricordo la sai ricordo diciamo la partita di ieri è la stessa identica cosa un paio di giornate prima e a me personalmente rimane la mare in bocca di salvarmi così in questa maniera ovvio complimenti ai ragazzi e comunque hanno fatto delle buone prestazioni contro la lazio contro la juve qualche buona prestazione con brandelli ovvero vince gli scontri diretti con con benevento con spezia con il toro però questo tipo di salvezza qui mi lascia la mare in bocca la biscotteria fiorentina è aperta ed è in business come si dice qua in canada se altre tifoserie si incazzano si arrabbiano con noi ci chiamano disonesti biscottai ci parlano di biscotti di di altre cose diciamo di irregolarità che poi regolarità non è però ci parla di disonestà bisogna un po stare zitti e accettarla perché queste cose nel senso noi ci permettiamo di dare di latri disonesti ad altri per carità un biscotto così non è assolutamente grave quanto un illecito sportivo però bisogna un po stare zitti se i tifosi del benevento ci dovessero di biscottari e bisogna prenderlo come ce lo dissero i tifosi dell'empoli qualche anno fa tanto io spero che il benevento si salvi e vada qualcun altro giù perché c'è una squadra che ha preso sette gol ieri che che forse meriterebbe a livello sportivo è non parlo a livello di tifoseria a livello sportivo e di presidenza meriterebbe la b di più rispetto al benevento visto anche che la partita i sette gol di ieri hanno diciamo ripagato un po tutto il culo che hanno avuto per tutto il campionato e quindi mi rimane mi rimane difficile commentare una cosa del genere commentare una partita anche perché c'è poco da commentare vorrei dire due parole oggi si parla della conferenza stampa che domani terrà commisso per fare qualche annuncio si parla del rinnovo di pradè e io qua ragazzi avevo promesso che non avrei parlato più di società e di commisso fino alla fine della stagione comunque fino a salvezza acquisita siamo salvi matematicamente fatemi dire se domani si riconferma pradè è la conferma scusate il gioco di parole la ripetizione di parole la ripetitività è la conferma che pradè viene viene gli viene rinnovato il contratto perché ha fatto esattamente quello che la proprietà voleva e quindi questo va a dimostrare che questa proprietà non è molto seria ma che un circo dimostra che questo è un circo qua non si sa cosa stiamo facendo si naviga a vista non si parla di allenatori grandi noni grandi nomi tipo fonseca tipo gattuso quello sembra quello sembra che sia quello più vicino ma io mi chiedo cosa ci vengono a fare questi allenatori qui in una realtà come la nostra per non c'è progettualità dove tre anni che non ci si salva o comunque ci si salva l'ultimo momento io boh ragazzi io diciamo vorrei essere smentito però se veramente c'è la riconferma di pradè che è una persona che stimo però che obiettivamente ha fatto male ha fallito in questi due anni di nuova proprietà cioè vuol dire che tutto va bene così visto commisso parla tanto di meritocrazia vuol dire che che pradè ha fatto esattamente quello che commisso voleva perché questa proprietà ha interesse solo nella speculazione e interesse di lizio e non nella parte sportiva quindi io tirando le somme sono scontento spero che il comunicato di domani smentisca però se dovesse veramente avvenire il rinnovo di pradè senza nessun cambiamento senza nemmeno affiancargli nessuno mamma mia vergogna proprietà abbastanza circense per non utilizzare termini peggiori e io continuerò nella mia diciamo nella mia perseguiterò diciamo perseguirò la mia opinione ovvero che si stava meglio quando si stava peggio va tanto vituperati ritirati della valle benché li abbia ritirati anch'io e non li rivorrei però erano meglio di questi spero di no spero di essere smentito e spero che questi ci faranno godere ci daranno dei bei annunci però questo è quello che penso ragazzi se se vi interessa iscrivetevi al canale se non vi interessa pazienza succede io sono il viola canadese seguitemi sui social seguite tutta viola su instagram la pagina con cui collaboro seguite anche arena sportiva su instagram altra pagina con cui collaboro vi mando un bacione un abbraccio e sempre forza viola